ben tornati per una nuova puntata amici amici carissime del catechismo di san pio decimo confesso che è una catechesi a me particolarmente cara e gradita perché la ritengo oltremodo istruttiva per i fedeli specialmente perché mi arrivano spesso lamentere varie da parte di diversi figlioli e figliole che lamentano una certa confusione soprattutto a livello dottrinale in questi tempi un po diciamo così travagliati che stiamo vivendo sotto vari punti di vista per cui a mio modestissimo avviso la chiarezza anche la semplicità che a volte può sembrare anche a qualche palato complicato forse anche eccessiva la semplicità e la schematicità del catechismo di san pio decimo può invece a mio avviso essere molto utile ripeto specialmente in questi tempi di smarrimento da parte di più di qualche coscienza per cui confesso ecco che il signore ci concede sempre di fare tante cose diversamente belle io confesso candidamente che per me ecco mettere a disposizione queste cose quindi preparare e fare tutti gli incontri di catechesi di meditazione è anzitutto un regalo una cosa bella per me lo confesso candidamente nel senso che ne resto altamente edificato anzitutto io spero ecco che altrettanto avvenga per coloro che intervengono e ascoltano la volta scorsa abbiamo visto il segno della croce la sua potenza quindi e in modo molto semplice con cui il catechismo di san pio decimo ci introduce dentro il grande mistero della santissima trinità riguardo il quale ci siamo già detti è molto più quello che non sappiamo di quello che sappiamo ecco dobbiamo soltanto come dire in qualche modo settare il pensiero quindi entro certi canali in modo tale da non pensare sciocchezze stupidaggino eresie fondamentalmente della santissima trinità bisogna proprio tenere presente sempre queste cose qui che dio è uno e trino unità non è contraddetta dalla trinità nella trinità significa assenza di unità la distinzione tra le persone divine è reale ma sono un solo dio la divinità è pienamente partecipata da ciascuno dei tre nessuno ha più o meno di qualcun altro e nessuno viene prima o dopo qualcun altro c'è un'uguaglianza perfetta tra le tre persone divine le uniche distinzioni sono quelle dovute alle cosiddette relazioni di origine quindi il padre genera ed è innascibile il figlio è generato dal padre lo spirito santo spira oppure procede dal padre e dal figlio procede significa procedere per spirazione nel senso che intervengono le due persone divine del padre e del figlio nella sua processione stop ecco il secondo step del catechismo dentro il credo è ovviamente credo in dio padre creatore del cielo e della terra credo in dio creatore del cielo e della terra e ce ne occuperemo a dio piacendo questa sera diamo subito a leggere perché la prima cosa da fare sempre leggere e poi piano piano commentare numero 51 siamo del catechismo della dottrina cristiana e quindi la forma diciamo così più breve e divulgativa non il catechismo maggiore di san pio decimo che ancora più ampio che non è escluso che in un futuro se il signore vorrà terminato questo piccolino faremo anche quello grande non mettiamo mai limiti la divina provvidenza perché dio perché ha detto creatore del cielo e della terra dio ha detto creatore del cielo e della terra ossia del mondo perché lo fece dal nulla e fare dal nulla è creare ne leggo qualcuno leggo in particolare i primi tre 52 il mondo è tutto opera di dio il mondo è tutto opera di dio e nella grandezza bellezza 53 dio creò soltanto ciò che è materiale nel mondo dio non creò soltanto ciò che è materiale nel mondo ma anche i puri spiriti e crea l'anima di ogni uomo vedete come è facile facile in tre righette ci ha sintetizzato una montagna di sapienza allora facciamo attenzione perché di questi tempi occorre fare dell'opzione di fede ben precisa se noi crediamo in dio creatore l'origine dell'universo di tutto ciò che è per quanto ci riguarda è l'altissimo voi sapete bene che oggi la cosiddetta la dico cosiddetta scienza perché puoi distinguere tra scienza vera e scienza che si appropa del nome e cia poco della sostanza è sempre un'operazione molto molto delicata molte volte quello che si definisce che si autodefinisce scienza in maniera arrogante si perdono insomma se uso questo termine in realtà non è scienza perché nei confronti di quest'autodefinita scienza occorre fare un atto di fede né più e nemmeno che rispetto alle cose che stiamo dicendo adesso l'esempio più classico e qui non ci sono io a a dirlo ci sono persone molto più grandi di me uno fra tutti Antonino Zichichi basta andare su youtube cercare Zichichi evoluzionismo e uno che voglia approfondire si vede tutto quello che con competenza scientifica di un certo livello questo grande scienziato italiano dice dell'evoluzionismo che non è scienza nemmeno nel grado più basso è una pura ipotesi però come ben sappiamo ovviamente chi c'è i bambini a scuola viene tranquillamente detto che l'universo si è generato misteriosamente da solo dal brodo primordiale poi il big bang le cose eccetera eccetera e poi le varie forme di vita che si sono andate strutturando in maniera sempre più perfetta e poi sono comparsi gli esseri viventi e poi c'è la catena evolutiva che arriva fino all'uomo aderire a questa cosa per quanto venga fatta passare come scienza quindi come cosa da persone intelligenti quindi da persone che ragionano e che possono dimostrare queste cose che non vanno dietro alle favole questo è il discorso invece chi ancora crede a queste cretinate perché così le ritengono è un povero mentecatto che poverino non gli funziona il cervello ha bisogno di qualche credenza tra l'altro abbastanza ridicola a cui appoggiarsi e gli va ancora appresso invece noi siamo scienziati pensate che io ho letto un testo un pochino di tempo fa di una donna molto molto in gamba scientificamente competente che ha detto sappiamo tutte quante tutte quante le i discorsi che stanno facendo adesso in giro su alcune tematiche ben note tra cui per esempio l'importanza della vaccinazione a prescindere adesso da tante questioni una notazione fatta da questa persona è questa cioè spingere sull'importanza di questa cosa a prescindere da ogni tipo di valutazione che ogni persona deve farla personalmente presuppone però una visione dell'uomo del tipo uomo come frutto di un processo evolutivo perché stai attenti se l'uomo è frutto di un processo evolutivo che va sempre più perfezionandosi verso il meglio è chiaro che tu devi dargli degli strumenti esterni perché anche da un punto di vista immunitario possa sempre più crescere ed evolversi meglio non so se riesco a farmi capire se tu stai dentro l'orizzonte della creazione questo discorso diventa un pochino più complesso diciamo così perché il mio organismo il tuo organismo non è frutto di aggiustamenti continui che sono andati componendosi nel corso della storia e quindi dobbiamo continuare ad aiutare una sempre maggiore evoluzione di questo organismo no no l'organismo è stato fatto benissimo da colui che lo deve fare certamente la chiesa questo lo insegna dopo il peccato ci sono complicate un pochino di cose sono arrivata la morte è arrivata la malattia tuttavia come dire l'integrità rimane di fondo quindi la prima cosa da fare non è mettere sempre input nuovi in modo tale che possa reagire ma è come dire custodire al meglio e potenziare al meglio e conservare al meglio quello che già c'è era una notazione che lessi in questo in questo in questo testo e che mi ha fatto riflettere non poco perché appare appare convincente ora cioè che pensiamo noi cioè adesso qui dobbiamo porci cioè siamo nel ventunesimo secolo siamo nel 2022 siamo come dire circondati diciamo così da questo da questo clima e da questo e da questi assiomi moderni no che qui c'è stata la scienza per cui queste cose qui se uno vuole lasciarsene nel cuore e più o meno andare a credere ancora a queste cose qui entro certi limiti poi se trova va bene però non andiamo a fare questi discorsi in giro noi che pensiamo noi che pensiamo sappiamo benissimo anche che c'è una cronologia biblica molto ben definita molto ben definita la creazione secondo la sacra scrittura l'abbiamo visto nel chi segue insomma questi incontri poi che si variano nel mercoledì proprio il primo incontro sull'antico testamento la creazione si colloca intorno a 4800 anni avanti Cristo la creazione proprio la sappiamo certamente che l'universo ma alla genesi interessa come dire interessa quello che c'è diciamo così sul pianeta Terra no noi e la comparsa in particolare della vita umana che facciamo punto interrogativo cioè le problematiche che si aprono sono molto molto sono molto molto grandi certamente la chiesa nelle sue autorità negli ultimi 60 70 anni ha subito il colpo cioè nel senso che come dire si è sentita come dire in qualche modo provocata o anche un po' ammarginata cioè o giudicata per certi aspetti di dire ma sentite un po' fatela un po' finita con tutte queste storie che noi oggi sappiamo tante cose mica potete ancora andare predicando in giro queste queste cose no a me sembra di cogliere questa situazione e insomma non è una situazione molto molto allegra perché insomma farsi mettere un po' sotto scacco o andare come dire a trovarsi in una situazione che sembra quasi avere dei complessi di inferiorità nei confronti di questa situazione a me personalmente è una cosa che non è che proprio la digerisco molto molto facilmente io penso penso lo dico a me e lo condivido che occorre fare una scelta adesso io per esempio non ho la competenza su questa materia quindi non ho la competenza come dire di dare una valutazione complessiva sulle come dire acquisizioni scientifiche in ordine alla genesi del cosmo perché ho studiato qualcosa a suo tempo ricordo diverse cose insomma che anche durante gli anni però a chi diamo retta punto interrogativo cioè a un certo punto capite noi ci troviamo dinanzi alla liberazione al catechismo e ai catechismi e anche il nuovo su questo rimane come dire che è la fonte è Dio oppure a tante parole degli uomini tante fonti umane ammantate come direte di questo nuovo crisma di sacralità sacralità nel senso di indiscutibilità e un tempo ce l'avevano le verità di fede adesso ce l'hanno le verità scientifiche ci metto i brackets dicono gli inglesi cioè le virgolette perché scientifiche alcune volte altre volte tutto quanto da dimostrare che siano scientifiche scientifiche quindi io credo che quantomeno come dire chi propende un pochino dal lato della scienza chi vuole fare questa scelta abbia sempre un pochino di accortezza prima di accogliere un qualche cosa come scientifico perché qui oggi tra scientifico si sciacquano la bocca in continuazione cioè una cosa che è scientifica secondo la nozione di scienza galileiana deve avere dei grismi ben precisi cioè tu la devi proprio dimostrare in maniera incontrovertibile la devi saper riprodurre e riproporre non ci possono essere dei bug il famoso bug della teoria dell'evoluzione l'anello mancante come si passa dall'ultimo stadio di un animale irragionevole perché le scimmie non parlano al fatto che noi parliamo non lo sappiamo ma allora tu devi fare un atto di fede né più nemmeno di chi crede che il mondo è stato creato anzi credere che il mondo è stato creato da un ente intelligente che sta al di sopra non è un atto di fede sciocca e cieca ma è un atto di fede assai ragionevole assai ragionevole se io conosco me stesso e oggi ci conosciamo molto bene anche la nostra conformazione anatomica come ha fatto il nostro corpo i meccanismi stupendi che lo che lo che lo che lo ordinano che lo strutturano pensare che ci deve essere qualcuno che sia un po' più di me che l'ha fatto è la cosa più ragionevole che esista perché noi non vediamo niente delle cose che vediamo intorno a noi che abbiano un'utilità un uso che non siano state fatte da qualcuno creare e addirittura fare dal nulla noi ci crediamo oggi siamo capaci oggi nel 2022 ancora di credere che Dio ha fatto il mondo dal nulla nonostante tutto quello che è stato detto il bombardamento che queste verità hanno ricevuto in continuazione punto interrogativo noi oggi la domenica chi va a messa possiamo noi dire credo in un solo Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra lo possiamo dire con sincerità noi dobbiamo fare attenzione quando diciamo il credo noi non possiamo mentire in un atto di professione di fede pubblica ci credi sul serio sei capace di crederci anche oggi ora il numero 52 è un eco di alcuni passaggi del libro della sapienza allora il mondo è tutto opera di Dio tutto chi conosce la divina volontà sa bene che dietro ogni ente creato c'è un atto specifico e peculiare della divina volontà e il mondo quindi tutto ciò che noi conosciamo e vediamo è bello è ordinato è meraviglioso e nel suo essere bello ordinato meraviglioso non è altro che il modo con cui arriva a noi un riflesso di ciò che Dio è di ciò che colui che l'ha fatto è la potenza la sapienza la bontà infinita di lui che dalle perfezioni visibili si possa arrivare alla perfezione invisibile di chi l'ha fatto si legge nel libro della sapienza e lo riprende San Paolo nella lettera ai romani perché se uno fa qualcosa in quel qualcosa che fa c'è la sua impronta non può essere nient'altro che così cioè gli ingegneri e gli architetti quando vanno in giro se ci sta qualcuno che per esempio in una città ha preso più di un appalto più di un lavoro appena vedono una casa dicono subito questa era fatta l'ingegner X questa era fatta l'architetto Y perché per quanto le case siano diverse non è che un architetto ingegnere le ha fatte in serie le ha fatte tanto uguali però lo stile si vede le caratteristiche le peculiarità si vedono chi conosce me cioè sa bene come dire lo stile che ha il mio modo di parlare il mio modo di presentare è tipico quindi si riconosce che è diverso da quello di tutti gli altri così come di altri illustrissimi e santi confratelli che sono presenti online lo stile è inconfondibile perché nelle cose che noi facciamo ci lasciamo l'impronta della nostra personalità inevitabilmente non è che uno vuole fare il protagonista cioè per forza cioè o uno non fa oppure nella cosa che fa ci lascia l'imprinting no? e figuriamoci se Dio non ci era lasciato nella creazione creazione del cielo e della terra che non sono soltanto la terra sono le cose materiali il cielo allegoricamente simbolicamente il cielo è il luogo dove abita Dio evidentemente quindi Dio è puro spirito quindi Dio non ha creato soltanto le cose materiali ma anche quelle spirituali e cominciamo dai puri spiriti chi sono i puri spiriti? i puri spiriti sono esseri intelligenti senza corpo numero 54 numero 55 come sappiamo che esistono puri spiriti creati che esistono puri spiriti creati lo sappiamo dalla fede perché ordinariamente salvo le eccezioni che ce ne sono quante vogliamo nella rivelazione oppure in altre cose gli spiriti non si vedono ordinariamente e quali puri spiriti creati ci fa conoscere la fede 56 la fede ci fa conoscere i puri spiriti buoni ossia gli angeli e i cattivi ossia i demoni chi sono gli angeli 57 gli angeli sono i ministri invisibili di dio ed anche i nostri custodi avendo dio affidato ciascun uomo ad uno di essi 58 abbiamo dei doveri verso gli angeli verso gli angeli abbiamo il dovere della venerazione e verso l'angelo custodi abbiamo anche quello di essergli grati di ascoltarne le ispirazioni e di non offenderne mai la presenza col peccato 59 i demoni chi sono i demoni sono angeli ribellati sia a dio per superbia e precipitati nell'inferno i quali per odio contro dio tentano l'uomo al male allora sembrano delle definizioni semplici semplici ma anche qui c'è una profondità veramente straordinaria allora la fede ci fa conoscere i puri spiriti ossia gli angeli buoni e i cattivi ossia i demoni quindi gli spiriti buoni si chiamano angeli gli spiriti cattivi si chiamano demoni gli spiriti sono esseri intelligenti intelligenti e quindi ovviamente capaci di compiere atti di volontà ma che non hanno un corpo gli angeli gli angeli sono anzitutto i ministri invisibili di dio qui il catechismo non lo specifica però per la formazione globale per questo è la base gli angeli sono veramente tanti ci sono i nove cori angelici gli angeli sono disposti in ordine gerarchico dal primo coro che sono i serafini dalla parola ebraica serf che significa ardere bruciare fuoco la radice seraf sono gli spiriti ardenti quindi sono gli spiriti che amano dio di amore infuocato e tra questi serafini secondo la sagra scrittura ci sono quelli che si chiamano i sette angeli assistenti di cui parla il profeta daniele quelli sempre pronti ad accedere alla presenza stessa di dio san michele che san gabriele e san raffaele che sono gli arcangeli nominati dalla sagra scrittura sono tre di questi sette la tradizione della chiesa ne ha consegnati anche altre quattro e che sarebbero se non vi ricordo tutti uriele ieudiele sealtiele e barachiele questi ultimi quattro però ci fu con intervento di un papa che ne ha proibito ecco il culto pubblico non essendo menzionati nella sagra scrittura perché c'è un problema purtroppo questo c'è da menzionarlo che con gli angeli nel corso della storia della chiesa sono successi un sacco di pasticci anche in alcune correnti esoteriche perché come siamo stati appena avvertiti i demoni sono angeli decaduti quindi tocca stare sempre molto attenti a queste presenze angeliche o supposte tali perché prima di essere certi che stiamo in contatto con una presenza angelica positiva dobbiamo pensarci 500 volte perché i demoni esistono e ingannano quindi la chiesa raccomando una certa sobrietà perché quando si cominciano a stare di mezzo queste cose qui la chiesa come una buona madre cerca di prevenire la possibilità che qualcuno dei suoi figli casca nelle mani dei diavoli che poi sono dolori per cui meglio essere un po' più rigorosi forse anche oltre il dovuto piuttosto che rischiare di trovarsi in mezzo ai guai ecco così spiego anche alcune cose che ogni tanto mi arrivano così se qualcuno presente queste cateche si trova anche un pochino le spiegazioni no mi pare che fu Papa Zossimo a intervenire in maniera ferma dicendo nominiamo San Gabriele San Michele San Raffaele e gli altri stop onde evitare di trovarsi però la motivazione è questa e non è una motivazione ballerina quindi gli angeli sono disposti in nove cori stavo dicendo i serafini i cherubini cherub significa invece i sapienti quindi i troni le dominazioni le virtù le potestà i principati gli arcangeli e gli angeli tra queste schiere generalmente dice San Tommaso tra l'ultima che sono gli angeli ma non è detto che soltanto tra quelle perché pare che il nostro signore ogni tanto mandi qualcuno anche delle sfere superiori a custodire i suoi figli specialmente quelli che ci hanno incarichi particolari diversi hanno il compito di custode e ogni essere umano ce ne ha uno uno ce l'hanno tutti per esempio San José Maria Escrivà lo racconto sempre era convinto che i sacerdoti ce ne hanno almeno due per aiutarli nel loro ministero sappiamo che dalla vita della venerabile Maria da Greda che la regina degli angeli cioè la Madonna ce ne aveva soltanto diecimila oltre al fatto che poi poteva entrare in contatto con tutti gli altri no quindi tanto per saperlo allora verso tutti quanti gli angeli sul catechismo abbiamo un dovere di grandissima venerazione e di culto sono da pregare e da invocare San Michele contro il demonio è potentissimo e tutti quanti dobbiamo conoscere la preghiera San Michele Arcangelo è raccomandatissima San Raffaele si invoca particolarmente per le malattie e anche per combattere le tentazioni della lussuria perché nel libro di Tobia dove si parla di San Raffaele si vede proprio come San Raffaele guarisce Tobi dalla malattia contratta agli occhi e libera finalmente Sara da quella maledizione che chiunque si sposava con lei a causa dell'intervento del principe del demone Asmodeo che è il demone della lussuria chiunque stava con lei era condannata a morire poi quando c'è tanta la storia ecco che per l'intervento di San Raffaele ovviamente mandato da Dio viene liberata Sara si sposa con Tobia e vivono felici e contenti come diciamo noi esseri umani no grande riverenza dobbiamo avere verso l'angelo custode ascoltarne le ispirazioni essergli grati gli angeli ci fanno un sacco di servizi e di favori senza che noi come del resto capita anche con l'altissimo ce ne rendiamo conto molte volte gli angeli sono i decodificatori insegna San Tommaso delle divine ispirazioni cioè quello che noi sentiamo dentro la testolina che poi ci sembra la nostra voce ci sembra un nostro pensiero quando è un'ispirazione non è un nostro pensiero lo percepiamo come tale ma viene dall'alto viene da Dio ora ce lo infonde Dio direttamente attraverso lo spirito santo oppure ce lo infonde attraverso il ministero angelico non siamo in grado di discernerlo questo qui sappiamo però che molte volte questo lo spiega San Tommaso siccome a Dio piace operare in maniera ordinata e quindi arriva alle cause inferiori attraverso la scala gradata diciamo così ordinariamente secondo San Tommaso l'ispirazione ci arriva attraverso il ministero dell'angelo custode quindi pensiamo quanto dobbiamo essere grati verso questi nobilissimi esseri no? e non offenderne mai la presenza con il peccato pensate che certi ma io sto da solo posso fare quello che voglio se si leggono alcune vite dei santi insomma noi da soli da soli non ci stiamo mai mai punto primo perché il nostro signore Gesù non è che diventa cieco quando noi siamo da soli no? i suoi occhi sono sempre aperti sul mondo e punto due c'è anche qualche creatura che che ci vede perché l'angelo custode ci vede non offenderne mai la presenza col peccato o i demoni chi sono? in queste tre righe c'è tutto angeli ribellati sia a Dio per supervi e precipitati nell'inferno quindi cosa sta dicendo? sta dicendo che tutti gli angeli erano stati creati buoni alcuni sono diventati cattivi per colpa proprio si sono ribellati a Dio sappiamo che come c'è stata una prova per gli esseri umani e che è andata a finire malamente prova che ha riguardato non tutti gli esseri umani come per quanto riguarda gli angeli ma il progenitore nostro i progenitori nostri per gli angeli invece c'è stata una prova che ha riguardato tutti quanti perché gli angeli sono stati creati tutti insieme da Dio e perché la prova dopo uno dice che Dio non mette alla prova certo che Dio mette alla prova perché la prova è l'occasione per manifestare la tua libertà in un rapporto di amore e Dio e Dio con le sue creature ha rapporti di amore ci deve essere una adesione volontaria personale e libera tu devi avere la possibilità di dire no altrimenti la tua libertà non è reale e non è possibile intessere un rapporto d'amore fuori o senza della libertà per le persone intelligenti Dio fa così Dio fa così c'è pericolo per questo è certo che c'è pericolo perché gli angeli ribellatisi a Dio non hanno possibilità di ritorno attenzione non hanno possibilità di ritorno quindi il misterium iniquitatis come si chiama quindi la corruzione degli angeli così come anche il peccato originale la corruzione degli uomini la durezza del cuore degli uomini l'impenitenza finale di certi uomini sono delle cose che devono farci molto riflettere ora i diavoli che sono diventati irreversibilmente cattivi per odio contro Dio attenzione tentano l'uomo al male cioè ai diavoli che tanto ci odiano di noi non gliene importa niente il motivo per cui i diavoli tentano l'uomo in continuazione e lo vogliono portare all'inferno è una rivincita contro Dio siccome loro odiano Dio e siccome Dio ama gli uomini fino a che punto fino al punto da farsi uomo e da morire in croce per noi allora anche prescindendo dalle ipotesi sul peccato originale degli angeli che ci sono e che spiegano molto molto bene la situazione che si è venuta creando anche se uno prescinde da quella cosa certamente è un dato oggettivo che la razza umana è stato oggetto di enorme amore da parte dell'altissimo gli uomini ingrati farebbero bene a tornare un pochino in se stessi ma noi ci rendiamo conto che la santa chiesa cattolica afferma che la seconda persona della santissima trinità quindi dio si è fatto uomo quindi capite che cosa significa che nobilitazione che ci ha avuto la razza umana cioè esiste una natura umana creata che è stata unita ipostaticamente dal verbo alla sua persona divina cioè esiste un uomo tra i membri della razza umana che è dio cioè non è che è dio perché si fa come tutti gli uomini fanno giocano a fare i padri eterni in terra no? questo è una cosa antichissima dai tempi dei faraoni egiziani poi i grandi re dell'oriente gli assiri i Nabucodono Sorbari e poi gli imperatori romani e poi Napoleone e poi i dittatori e tutti quanti quanti che giocano a fare il padre eterno in terra no? con esiti proprio grotteschi e ridicoli il problema è che c'è un uomo che è dio e che non contento di essersi fatto uomo è andato morì in croce per noi per la nostra salvezza perché a differenza degli angeli l'uomo è redimibile perché nel peccato anche nel peccato originale che è stato comunque gravissimo non c'è quella lucidità mentale che hanno gli angeli quindi non c'è quell'adesione come dire indisgiungibile inestricabile che si crea col male e che rende quindi la volontà irreversibilmente corrotta malvagia siccome i diavoli si sono ribellati a dio ma questo abbiamo capito anche noi esseri umani dio non può essere colpito da nessuna creatura nessuno può fare del male a dio questo sia ben chiaro tutti quelli che sfidano nostro signore che lo irridono che bestemmiano che fanno tutto quello che vogliono mica si penseranno che hanno il potere di scalfire o toccare la divinità o la sua eterna e infinita felicità essenziale per sé e in sé cioè se qualcuno pensa questo pensa male pensa quello che fa il peccato dell'uomo e quello che fa anche il peccato angelico è che colpisce quella che si chiama la gloria accidentale di dio cioè alcune creature da lui fatte e che dovrebbero essere e conservarsi meravigliose bellissime quale sono si vanno a deturpare quindi offuscano quella gloria che è fuoriuscita da dio creando sarebbe come il deturpatore di un'opera d'arte se io deturpo un'opera d'arte non è non c'è quello quello la chi l'ha fatta sì certamente si dispiacerà di vedere l'opera d'arte deturpata ma non è colpito da quest'operazione è un'immagine e i diavoli sono cattivi però hanno una malizia profonda e questa è un'altra cosa che dice San Tommaso dobbiamo ricordarlo hanno conservato l'intelligenza integra un po' obnubilata però pensate che Lucifero che è il capo a quanto pare era il primo degli angeli adesso il suo posto l'ha preso San Michele ma San Michele a quanto pare prima della ribellione angelica non era il principe degli angeli perché il principe degli angeli era Lucifero quindi cioè le nove schiere angeliche i demoni stanno fra tutte le nove schiere angeliche i serafini decaduti Lucifero è un serafino decaduto a quanto pare hanno una grandezza un'eccellenza una potenza un'intelligenza che per noi esseri umani non è neanche lontanamente concepibile allora veniamo a dire qualcosa sull'uomo poi ci fermiamo prima ecco prima del del discorso sul peccato originale perché altrimenti eh andiamo oltre con i tempi no leggo gli articoli i primi dal 60 al 65 che parlano dell'uomo ecco prima del peccato originale quindi prima di entrare in quella piccola catechesi protologica cioè sulla condizione delle origini che il catechismo sintetizza allora numero 60 chi è l'uomo anzitutto l'uomo è un essere ragionevole composto di anima e di corpo leggo leggo tutto e poi commentiamo 61 che cos'è l'anima l'anima è la parte spirituale dell'uomo per cui egli vive intende ed è libero e perciò capace di conoscere amare e servire dio 62 l'anima dell'uomo muore col corpo l'anima dell'uomo non muore col corpo ma vive eterno essendo spirituale 63 quale cura dobbiamo avere dell'anima dell'anima dobbiamo avere la massima cura perché essa è noi la parte migliore immortale e solo salvando l'anima saremo eternamente felici 64 come è libero l'uomo l'uomo è libero in quanto che può fare una cosa e non farla o farne una piuttosto che un'altra come sentiamo bene in noi stessi se l'uomo è libero può fare anche il male l'uomo può ossia è capace di fare anche il male ma non lo deve fare appunto perché è male la libertà deve usarsi solo per il bene forse ho sbagliato ad entrarmi in queste cose vabbè ci prendiamo un'altra decina di minuti speriamo che bastino perché tanta roba allora essere allora definire una cosa molto importante quindi abbiamo i puri spiriti cioè essere intelligenti senza il corpo e poi abbiamo gli uomini che sono invece esseri ragionevoli composti di anima cioè della parte spirituale e del corpo ok quindi primo inquadramento che cos'è l'anima l'anima è la parte spirituale dell'uomo appunto lo spirito per cui egli vive intende ed è libero è perciò capace di conoscere amare e servire Dio bellissima questa definizione dell'anima semplice però completa l'anima è la parte spirituale dell'uomo per cui egli vive attenzione che il principio della nostra vita il principio non visibile neanche dai medici dai dottori e da tante altre questioni è l'anima cioè chi sovrintende a tutte quante le nostre funzioni anche biologiche tutte è l'anima questo la scienza tra virgolette non lo può sapere ma la fede sì tutte le nostre funzioni biologiche sono ordinate presiedute azionate dall'anima evidentemente attraverso l'ausilio di tutti quanti quegli organismi che abbiamo organi interni e che sono preposti alle loro funzioni chi vuole approfondire questo tema dico anche questo ciclo di catechesi legga il libro al di là del tempo e dello spazio o il cosiddetto libro di teleramata e vedrà delle bellissime spiegazioni al riguardo si trova su Amazon per chi fosse interessato ci sono delle di Riccardo Perez Hernandez tradotto in italiano da Don Pablo Martin vedrà delle bellissime cose raccontate da un'anima beata non solo l'anima è ciò per cui noi viviamo ma è anche ciò che ci fa per cui noi intendiamo perché l'anima delle facoltà che sono l'intelligenza la volontà e siamo liberi e quindi in quanto tali capaci di intendere di esercitare la libertà noi siamo capaci di conoscere amare servire Dio che se ricordiamo è il fine per cui noi siamo stati creati ripeto tutte le cose ci siamo detti a suo tempo attenzione che l'anima a differenza del corpo il corpo deve pagare il tributo della morte in conseguenza del peccato originale il peccato originale anche qui rimando al ciclo di catechesi che sto facendo ancora sul peccato originale ha immesso nell'uomo il principio della corruzione la corruzione il corrompere la morte è separazione dell'anima e del corpo e consegna del corpo alla corruzione noi sappiamo Gesù Cristo è morto attenzione ma non doveva morire è morto di morte violenta certo se tu ammazzi una persona che non può morire per cause naturali e gli dà una coltellata certo che muore e ha dovuto morire per la nostra redenzione ma come dice il salmo non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione quel corpo non poteva corrompersi ed infatti è risorto il terzo giorno morto sì ma corrotto no la madonna che è corredentrice come un giorno certamente la chiesa definirà per quanto mi riguarda ma non nello stesso modo con cui evidentemente lo è stato il redentore con la R maiuscola non è stata associata alla redenzione chiedendo il sacrificio della vita e del sangue perché per lei non era necessario perché il sangue che ci dava è quello di nostro signore è stata associata alla redenzione spiritualmente con la morte mistica e quindi non essendo morta di morte violenta e non avendo avuto il peccato la madonna non solo che non si è corrotta ma non è passata attraverso la morte in senso stretto cioè la separazione dell'anima dal corpo l'uomo quando muore il corpo muore ma l'anima vive in eterna essendo spirituale a causa della corruzione innescata dal peccato originale ma la madonna questo non è successo la madonna ha adesso in paradiso gli stessi organi che aveva quando era una donna qui sulla terra a Nazareth ha lo stesso cuore lo stesso fegato gli stessi polmoni gli stessi muscoli uguali pensiamoci a queste cose cosa che non accadrà con nessun altro essere umano anche nostro signore ha gli stessi tuttavia il corpo è passato per la morte reale vera non per la corruzione ora capiamo no? io dico ma qualunque persona che ci abbia un minimo di grano salis pensiamo specialmente poi ancora oggi è inevitabile fare questi riferimenti cioè quale cura dobbiamo avere dell'anima ma quale cura dobbiamo avere dell'anima devi avere la massima cura possibile dell'anima non soltanto perché non è la parte migliore ma perché è immortale ed è solo salvando l'anima che tu sarai eternamente felice e che potrai riscattare la condizione di corruzione che è nel corpo e nella quale il corpo certamente passerà è una follia allo stato puro tutto quello che si vede in giro cioè gli uomini follemente preoccupati di preservare la vita e custodire la vita del corpo che presto o tardi finirà cioè di qualche causa si muore perbacco cioè è una cosa sicura che si muoia e non si può evitare si può soltanto procrastinare con questo non vuol dire che non dobbiamo curare la salute o la vita del corpo per carità viva Dio ma non in maniera folle e soprattutto trascurando completamente l'anima la stragrande maggioranza della gente oggi vive come se l'anima non ce l'avesse la trascuratezza è somma capiamo la follia pura d'accordo che ha preso l'uomo contemporaneo o postmoderno come lo dice qualcuno dell'anima si deve avere la massima cura massima non è mai troppo quello che si fa per l'anima il sano amore di noi stessi dicevo ma è l'unedì scorso nella catechese sui vizi e le virtù è questo la nostra anima va custodita va curata tu gli devi dare pascoli erbosi se qualcosa ti attossica stanno lontano su tutti i punti di vista tutti i punti di vista tutti i punti di vista qualunque cosa attossica lontano qualunque cosa giova prendila quanto tanto quanto puoi più puoi e meglio è e infine parliamo della libertà la libertà l'uomo è libero in che senso in quanto può fare una cosa o non farla o farne una piuttosto che un'altra come sentiamo noi stessi nessuno pensi la libertà è un fatto reale dato da Dio perfino come dire 65 l'uomo può nel senso che è capace di fare il male e Dio questa cosa la rispetta ma chi è l'essere libero per eccellenza l'essere che veramente può fare tutto quello che vuole senza nessun pericolo è Dio ma Dio il male non lo può fare evidentemente non lo vuole fare perché perché è Dio e non è uno sciocco e non è uno stolto perché fare il male è pazzia allo stato puro pazzia eppure gli uomini infatti sono una banda di matti che camminano banda di matti con l'attenuante evidentemente ecco perché non siamo di diavoli ecco perché siamo perdonabili ed ecco la differenza che c'è tra il male fatto dagli uomini e dall'angelo cioè quando l'uomo fa un peccato non si rende conto anche se sa che è peccato di tutta quanta la valanga di male che innesca con quel peccato lo vedremo dall'altra parte però eh adesso lo dobbiamo prendere per fede ma dall'altra parte vedrai come lo vedrai tutto quanto il mare di fango e di sterco che ha innescato con quel peccato che qualcuno ha saputo dire di no e il male che ha fatto a te intorno a te questo sicuramente lo vedremo eh anche se sono stati perdonati ma comunque il signore questa cosa ce la fa la vedete sicuro io sono sicurissimo di questo qui la differenza tra noi e gli angeli è che gli angeli quella cosa la vedono prima di farlo il peccato ecco perché uno ne basta ed è la fine ora il male che noi conosciamo essere tale certamente per ragionevolezza e per fede ma non vediamo tutte quante non bisogna farlo per nessun motivo perché la libertà deve usarselo soltanto per il bene e qui c'è la distinzione che dobbiamo approfondimento a Sant'Agostino tra la libertà e il libero arbitrio che non sono la stessa cosa sono simili nel senso molto in generale come spiega bene il catechismo essere liberi significa fare una o l'altra cosa senza qualificarli cioè la libertà implica sempre la possibilità di una scelta cioè di fare una cosa piuttosto che un'altra a priori solo che la libertà perché sia edificante costruttiva deve essere scelta tra un bene e un altro bene tra un bene e un bene migliore tra un bene migliore e un bene ottimo tra un bene ottimo e un bene eccellente o tra quattro beni eccellenti disponibili cinque sei sessanta quando invece si considera la libertà come possibilità di scegliere il male si parla di libero arbitrio arbitrio perché perché c'è la possibilità di farlo ma non lo devi fare quindi se tu fai il male prevarichi quindi usi male la libertà che non è più libertà ma diventa arbitrio cioè pazzia e però ha fatto reale l'esistenza del libero arbitrio ecco compito dell'uomo è imitare l'altissimo imparare ad usare la libertà come la usa nostro signore cioè senza mai fare stupidaggini ma nel bene moltiplicare il bene in tutte le modi possibili poi passare come dice come dicono maestri di spirito dal bene al meglio dal meglio al sempre meglio dal meglio al sempre meglio ogni giorno di più fino ad arrivare all'ottimo tanto non ci avremo mai cioè a questo non c'è mai fine perché perfetti come Dio non ci diventeremo mai quindi ha voglia ad andare avanti sempre di più nell'uso santo della libertà bene ci fermiamo qui siamo già quasi fuori tempo massimo la prossima volta riprendiamo dalla considerazione del peccato originale e dallo stato che aveva l'uomo quando così come è uscito creato da Dio e quindi il peccato originale eccetera eccetera è tutto quello che ne consegue ci vediamo alla prossima puntata grazie a chi ha seguito la diretta e a chi seguirà la differita speriamo che abbia giovato alle vostre anime come ha giovato alla mia io vi benedica e la madonna sempre vi volete grazie a tutti